Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, eccoci in una nuova lezione del linguaggio visivo. Vi ricordo che siamo quasi agli sgoccioli della fine delle lezioni dedicate a questo argomento e dopo la luce ci sarà la composizione, dopodiché avremo chiuso finalmente, diciamo così, il nostro corpus di video lezioni dedicate appunto a questo argomento, che di solito viene un po' bisfrattato dai libri di testo, ma al quale io ho voluto dedicare un po' di spazio proprio per un'esigenza mia personale, perché cercavo un contenitore coerente, unico, dove poter attingere quando vado insomma a spiegare questo tema alle mie classi. Vi ricordo che potete supportare il progetto iscrivendovi al canale, mettendo like o commentando, condividendo se pensate che la video lezione possa essere utile a qualche collega e da pochissimo le lezioni possono essere acquistate attraverso un link che trovate in descrizione al video o anche nelle informazioni del canale stesso. Dopo un po' che erargivo gratuitamente, mi è sembrato naturale iniziare a godere dei benefici di queste mie competenze. Ecco, allora faccio una breve carrellata di tutto ciò che abbiamo fatto. L'avete già vista la video lezione sul colore? Mi è piaciuto un casino farlo e forse avrei dovuto dedicare anche più tempo, perché è veramente molto ampio il discorso sul colore. Arrivo, 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 passo attraverso la superficie, lo spazio. Abbiamo fatto un sacco di cose già insieme. Lo spazio è sicuramente una delle lezioni più indicate per i ragazzini di seconda, visto che fanno la prospettiva tutto l'anno. Lavoro sull'anamorfosi che ho già mostrato. Vi ricordo che trovate tutte le video lezioni nella playlist dedicata appunto al linguaggio visivo. Il volume, così se vi le siete perse potete andare insomma a recuperarle. Queste sono le slide ancora relative al volume. Ci siamo quasi. Eccoci qua. Quindi linguaggio visivo, la luce, tutto quello che dovete sapere. Questa è tutta la lista degli elementi del linguaggio visivo che già abbiamo visto insieme. Pagina nera. Perché scelgo di mettervi una pagina nera? Allora, innanzitutto, devo dire anche perché ho deciso di collocare la luce alla fine, o meglio, quasi alla fine, del discorso sul linguaggio visivo. Perché la luce è la ciliegina sulla torta di tutto il discorso. Ecco perché senza la luce noi avremmo il nero, il buio più totale. Letteralmente. Infatti, questo, quello che vi ho appena mostrato, è quello che vedremmo in assenza di luce. Ma grazie alla luce noi percepiamo ogni forma visibile, che è costituita da tutti quegli elementi di cui abbiamo già parlato, no? Grazie alla luce noi percepiamo ogni immagine, ogni immagine che è appunto costituita da tutti gli elementi di cui già abbiamo parlato. Grazie alla luce noi possiamo vedere ogni forma visibile, ed è un po' come guardare attraverso lo spioncino della porta di casa, no? Da così io lo sollevo, lo sollevo, lo sollevo e finalmente mi si apre il paesaggio che sta al di là davanti ai miei occhi. In assenza di luce io non avrei potuto vedere nulla, ok? Avrei visto solo una pagina nera. La luce determina i colori e rende evidenti i volumi. Sono la quantità e la qualità di luce che determinano la tonalità dei colori e la forza dei volumi. Spieghiamoci meglio. Cosa accade quando la luce colpisce un oggetto o volume? Può creare delle ombre, le quali possono essere a loro volta ombre proprie o ombre riportate. La luce può creare dei riflessi che sostanzialmente sono quei raggi di luce che colpiscono la superficie dell'oggetto, vengono rimbalzati su un altro piano e successivamente rimbalzati di nuovo sull'oggetto stesso. Immaginatevi l'oggetto colpito dalla luce, la luce che viene respinta e poi di nuovo rimbalzata. Le ombre, abbiamo detto, possono essere di due tipi. Cosa significa? Significa che le ombre proprie sono quelle che si producono sul corpo stesso. Quindi sono ad esempio quelle che mi fanno percepire alcune zone della mano in questa immagine un po' più scure rispetto alle altre. Stesso discorso per queste foglie avvizzite, accartocciate, l'ombra propria è quella che dà quell'effetto di chiaro-scuro sulle foglie stesse. L'ombra riportata è quella che viene proiettata su di un altro piano o un altro oggetto. In questo caso su un altro piano, poiché parliamo di muro per quanto riguarda la mano, vedete c'è proprio l'ombra della mano e l'ombra riportata di questi rami secchi su una superficie orizzontale sopra la quale appunto i rami sono appoggiati. Bene. Ogni tanto mi piace, sapete, collocare qua e là delle slide, diciamo così interattive, per far svegliare un po' la classe e coinvolgerli. Quindi ho messo questa, con questa bella mela tonda, mi piaceva tanto la mela, mi ricordava scuola. E quindi da dove arriva la luce, facciamoli giocare, gli facciamo vedere appunto che è molto facile capire da dove arriva la luce, in questo caso la luce arriva dall'alto. Un'altra cosa importante quando parliamo di luce è considerare la posizione delle fonti di luce. La posizione della sorgente della luce rispetto agli oggetti e all'osservatore valorizza in modo differente colori, forme e volumi. La luce, ad esempio, può essere frontale, laterale, dal basso verso l'alto o contro luce, ma può essere in tanti altri modi, può essere diffusa dall'alto verso il basso. L'illuminazione frontale è quella che proviene da dietro all'osservatore e colpisce le facce degli oggetti e i suoi piani, quelli rivolti appunto verso l'osservatore stesso. Ed è una luce che va ad appiattire i volumi, non crea effetti chiaroscurali interessanti per l'artista, se così vogliamo dire. Quindi va ad appiattire i volumi, la luce frontale. La luce laterale è quella appunto che colpisce l'oggetto di lato e cosa fa? Va a proiettare la sua ombra su di un piano, che sia esso orizzontale o verticale, o sugli oggetti che sono collocati al di là dell'oggetto stesso, colpito e investito dalla luce. Il contro luce, la disposizione sostanzialmente è questa. Noi abbiamo, come è per questa fotografia, la fonte luminosa collocata dietro all'elemento che io sto osservando. Quindi parlando in piani, abbiamo la luce che sta di fronte all'osservatore, l'oggetto sta tra la luce e l'osservatore stesso, per cui l'oggetto è in controluce e quindi appare come una sagoma molto scura. Anche qui non abbiamo effetti chiaroscurali, come è per la luce frontale, ma il soggetto ci appare completamente nero. La luce dal basso verso l'alto è una luce che viene tipicamente utilizzata soprattutto per quanto riguarda il cinema del terrore, dell'orrore, i thriller. Pensate a quei racconti del terrore fatti nei film americani, quando vanno in campeggio, si ritrovano la sera a raccontarsi le storie di paura e c'è quello che racconta la storia e ha la torcia che gli illumina il viso dal basso verso l'alto perché crea degli effetti chiaroscurali molto accentuati e regala un senso di mistero e di un bel effetto enigmatico. Mette in risalto che cose i volumi sporgenti lasciando in ombra quelli meno aggettanti. In campo artistico la luce ha un ruolo molto importante e se in scultura e in architettura è un elemento esterno rispetto all'opera d'arte, quando andiamo a parlare di immagini, quindi in pitture, in grafiche, in disegno eccetera, la luce e i suoi effetti fanno parte dell'immagine stessa, ok? Quando diciamo effetti della luce intendiamo ombre e riflessi. Quindi come usa la luce l'artista? L'artista può utilizzare diversi metodi per rappresentare e servirsi della luce e dei suoi effetti. Può ad esempio decidere di utilizzare l'oro perché l'oro è già di per sé un colore molto luminoso e per di più, siccome solitamente si utilizza la foglia d'oro, essa è riflettente, per cui riflette interamente la luce e regala un effetto di grande luminosità all'opera. L'artista col chiaroscuro rappresenta gli effetti della luce sul volume lavorando sulle ombre e quindi ad esempio in pittura va a scurire i colori oppure se si tratta di un'opera disegnativa, grafica, si scurisce utilizzando le sfumature o il tratteggio, dipende. Tonalità L'artista gioca con varie intensità dei colori cioè il colore rosso non ha una sola intensità, non ha una sola tonalità ci sono varie tonalità di rosso ecco quindi che sarà un rosso più chiaro dove a colpirli c'è la luce e un rosso più scuro nelle zone d'ombra. Infine c'è la lumeggiatura quando l'artista decide di rialzare, accentuare gli effetti dei riflessi luminosi con l'utilizzo del colore bianco o con l'utilizzo del colore oro. Ora facendo un breve viaggio all'interno della storia dell'arte possiamo vedere alcuni esempi di come gli artisti hanno utilizzato la luce nelle loro opere. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'oro vi avrei potuto parlare in realtà anche di Klimt però mi piaceva anche l'idea di darvi una cronologia quindi sono partita dai mosaici di epoca romanica nello specifico questi sono i mosaici della Basilica di San Vitale a Ravenna è un particolare del catino absidale appunto della Basilica di San Vitale che rappresenta il Cristo assiso sul globo terrestre. l'utilizzo in quest'epoca di tessere musive di colore oro è largamente diffuso un po' perché l'oro è simbolo di preziosità e di ricchezza e perché simbolicamente si legava ad un concetto all'immagine divina quindi sacrale la luce dell'oro è in queste opere simbolo dell'eternità e dell'immensità quindi di Dio per quanto riguarda il discorso della luce e del riflesso della luce è chiaro che l'oro riflettendo la luce dell'ambiente la rappresenta in maniera concreta la luce grande pittore di luce è senza ombra di dubbio Michelangelo Merisi detto il Caravaggio anche se in realtà sapete che oramai la critica gli storici dell'arte hanno sfadato questo mito ahimè Merisi non viene da Caravaggio che tra l'altro è un paesino vicino al mio paese di nascita Treviglio ma viene da Milano cioè lui è nato a Milano e si dice che lui è il pittore di luce ma così come lui tanti altri potremmo dire che lui è il pittore del chiaroscuro la sua pittura è molto teatrale e drammatica lui utilizza la luce come se utilizzasse il chiaro di scusate la luce come si dice porca miseria quella del teatro a occhio di bue ecco non mi veniva il termine scusate l'occhio di bue a teatro cioè la direzione laddove gli serve e la luce del Merisi non è mai una luce garbata no è una luce violenta che proprio colpisce come fa la Giuditta con Oloferno in questo caso colpisce con una spada le sue figure e le porta in tutta la loro crudezza e realtà all'occhio dello spettatore quindi i suoi chiaroscuri sono intensi drammatici e violenti e la sua è una luce che colpisce Rivera e rivela le figure dipinti caratterizzati da fondo scuro sopra il quale si stagliano le figure un altro artista del seicento che utilizza forti contrasti chiaroscurali è Georges Delatour ma se Caravaggio utilizza un chiaroscuro violento e teatrale Delatour sa regalare a questi effetti chiaroscurali un non so che di poetico e di evocativo tra l'altro gli piace molto inserire all'interno delle sue opere la sorgente luminosa dalla quale proviene appunto tutta la luce dei suoi dipinti e quindi io scelgo di mostrarvi queste due opere che hanno come soggetto sempre il San Giuseppe dove c'è la luce sorretta da questa figura fanciullesca che appunto rischiara la scena ma in modo molto delicato e soffuso se così vogliamo dire molto bello l'effetto del controluce del braccio qui nel sogno di San Giuseppe un'opera datata a 1640 facendo questo percorso come faccio a non parlarvi di Claude Monet grande esponente del movimento impressionista è stato tra l'altro l'unico che sarà sempre comunque convinto dell'impressionismo e della ricerca artistica degli impressionisti Monet cos'era per Monet la luce la luce era tutto e lui aveva questa grande come si dice voleva assolutamente catturare gli effetti fuggibili della luce e quindi lui si piazzava col suo cavalletto davanti a questi soggetti che possono essere come in questo caso i covoni di Fieno o la cattedrale di Rouen o le stesse ninfee che produrrà verso gli ultimi anni della sua vita e ne fa una serie infinita partendo dalle prime luci dell'alba passando per gli effetti della luce intensa del mezzogiorno arrivando poi a quelli infuocati del tramonto serale e ai vespri delle prime luci della notte luci in senso metaforico della notte e quindi lui osserva le cose che cambiano colore sotto l'azione della luce perché appunto abbiamo detto la luce determina l'intensità dei colori e le ombre stesse è chiaro lo dimostrano appunto questi covoni cioè se alle prime luci del mattino l'ombra è sulla destra guardando l'immagine in basso sinistra e i colori sono tenui a mezzogiorno l'ombra viene verso di noi ok perché il sole si è spostato e quindi le ombre si direzionano in base allo spostamento del sole nel cielo i colori sono più intensi al calare del tramonto cosa succede il cielo si fa infuocato e i colori sono leggermente più rossastri e le ombre si fanno lunghe no? altra slide interattiva indovina quale parte della giornata corrispondono le tre opere di Monet ma già le ho dette prima nel corso della spiegazione del perché ho inserito Monet quindi mattina in alto a sinistra mezzogiorno in alto a destra e tramonto in basso centrale scelgo poi di mostrare un artista italiano appartenente al movimento divisionista Gaetano Previati perché le sue opere sono opere di opere di vera luce Previati riesce a ottenere questo effetto luministico accostando colori puri su tela e vedete sono è un po' come se al di là dell'opera ci fosse un faro no? quindi il faro che illumina propriamente l'opera d'arte stessa come ottiene la luce Previati uno dei principali protagonisti della pittura divisionista accosta colori puri che fanno sembrare le figure come fatte di luce propria tra l'altro la pennellata divisionista è una pennellata filamentosa che evoca calore e dinamismo pennellata filamentosa che poi riprenderanno anche alcuni artisti futuristi mi viene in mente oggi mi dovete perdonare sono un po' disattenta perché si sta avvicinando l'ora che devo andare a prendere mio figlio a scuola allora guardo l'orologio e sto attenta scusate pardon quindi la città che sale di boccioni ok e quindi questa pennellata filamentosa con colori puri accostati tra di loro bellissimo il giorno sveglia la notte del 1905 dove appunto c'è questo contrasto tra il colore adesso qui l'immagine è sicuramente un po' alterata per quanto riguarda proprio i colori sembra un viola viola rossastro bordeaux e poi l'arancione e il giallo del giorno e la Madonna dei gigli del 1894 un'opera fortemente evocativa molto sofisticata ed elegante quindi la Madonna col bambino in braccio seduta all'interno di un campo di gigli tutto giocato sui toni del verde e del giallo chiudo la parentesi di insomma di questo iter di questo percorso di artisti nell'ambito della storia dell'arte che hanno utilizzato la luce in modo molto differente con Piazza d'Italia di Giorgio De Chirico esponente di pittura della pittura metafisica che utilizza la luce per creare delle atmosfere surreali all'interno delle sue opere come dei film post-apocalittici mi viene a pensare così questo cielo verde non lo so sembra come colorato in questo modo perché lì vicino è appena esplosa una fabbrica una centrale nucleare e queste ombre sempre molto lunghe ombre nette ombre che regalano appunto queste piazze d'Italia che sono piazze non è la piazza di Roma di Milano di Napoli ma potrebbe essere la piazza di qualsiasi città in qualsiasi angolo di mondo e quindi questo cielo verde le ombre incredibilmente nette che si allungano proprio a dismisura sul pavimento quindi De Chirico cosa fa? utilizza la luce per creare un effetto surreale Previati utilizza la luce per creare degli effetti sensazionali alle sue opere d'arte non so come dire che sembrano proprio vivere di luce propria Monet usa la luce perché vuole catturare l'effetto fuggevole la rapidità l'istantaneità dell'attimo stesso Georges de Latour per creare questo sentimento poetico ed evocativo Merisi perché le sue opere sono opere teatrali e quindi la luce è una luce teatrale in Merisi che crea forti netti contrasti chiaroscurali la luce che è simbolo di Dio per quanto riguarda i mosaici di epoca romanica ecco quindi che abbiamo visto come gli artisti hanno utilizzato la luce in suoi effetti in vario modo utilizzando diverse tecniche e chiaramente raggiungendo obiettivi differenti la video lezione la chiudo qui legata sulla luce fatemi sapere nei commenti se ho detto cose a caso oggi non sono molto attenta mi dovete perdonare sappiate però che sta arrivando anche il laboratorio grafico sulla luce quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti mettete like o commento in modo tale che io possa salutarvi e ringraziarvi personalmente condividete se pensate che il video possa essere utile a qualcuno e se volete acquistare il pdf della lezione l'ho acquistato una volta e poi lo riutilizzate tutte le volte che volete per non leggere sempre il solito libro che dai lo sappiamo è noioso i ragazzi si annoiano non gli interessa granché leggere e poi è una lezione costruita in modo personalizzato in modo coinvolgente per gli stessi alunni potete acquistarla come vi ho detto attraverso il link che trovate in descrizione oppure nelle informazioni del canale io vi ringrazio e buon lavoro a tutti ciao alla prossima